Cristiano Ronaldo corre, corre Cristiano Ronaldo, vuole segnare il tiro Stef, dimmi Ferre Perché stai giocando da solo? Oggi è il giorno in cui mi dovrei insegnare a giocare a calcio Ferre ma a te non piace giocare a FIFA? Sì ma tu mi hai detto che mi avresti fatto diventare un calciatore perfetto, cioè guardo pure la maglietta, meglio di così Allora Ferre, la maglietta si mette per andare a giocare a calcio nella vita reale Quando giochi a FIFA puoi giocare anche in mutande che non cambia nulla Non mi dovevo mettere la maglietta No Ferre, non serve a nulla, scusami Eh ma era per entrare meglio nel ruolo, ho capito? Io adesso sono prontissima quindi muoviti a insegnarmi a giocare Ho paura di farlo Ferre, devo essere sincero E ragazzi come va? Io sono Ferre Niki E io sono Stef, che stai giocando a FIFA Ebbene sì, il grande giorno è finalmente arrivato, il giorno in cui Ferre Niki imparerà a giocare a calcio Esattamente, allora quest'oggi giocheremo davvero a FIFA, non è nel modo normale, anzi Prima di tutto, quello lì a destra è il giocatore di Ferre Niki Cioè quello lì è Ferre Niki Creato da me Se Ferre Niki fosse maschio sarebbe quello che ha appena creato Sì, anche i baffetti, se gliele ho messi perché io vorrei troppo avere i baffetti Ma da donna non li posso avere, quindi gli ho messi anche questo crestino Io vi voglio soltanto dire che si chiama Ferre The Queen e nella maglietta c'è scritto The Queen Giustamente, giustamente Giusto per farvi capire l'ignoranza di questa serie Allora, come funzionerà? Io sono l'allenatore, posso utilizzare tutti i giocatori della squadra Abbiamo scelto il Cagliari perché siamo di Cagliari Tranne un giocatore, Ferre The Queen Che sarà un attaccante che comanderà Ferre Niki E con cui dovrà cercare di fare il meglio possibile Giustamente per la mia nabbagine sono un giocatore Esattamente Mi sembra logico questo Ci saranno allenamenti, ci saranno partite Ci saranno altri allenamenti Tanto, tanto allenamento Mi sto già stancando solo a sentire il programma di oggi Esatto, il giocatore di Ferre Niki è scarso Ma proprio scarso, scarso, scarso Io lo voglio dire, l'ho provato 5 minuti inciampa nei suoi piedi Cioè, se voi mi deste un pallone e io andassi in un campetto da calcio Saremmo uguali Assolutamente no È proprio la mia proiezione Si creerebbe un buco nero se lo usassi su nella realtà Quindi non è la stessa cosa In ogni caso, quindi Che cattivo L'obiettivo sarà far migliorare tanto Ferre quanto il suo giocatore Perché entrambi sono davvero scarsissimi E Ferre non ci interessa nella tua maglietta Che ovviamente è mia Perché lei non ha mai giocato a calcio in vita sua Iniziamo Si parte con un allenamento che servirà ad introdurti alla tua prima amichevole Perché sì, giocherai le amichevoli Perché le partite ufficiali Perché? Non me la sento ancora Eh, Ferre sai, non sai neanche Ma io sono il nuovo calciatore acquistato Super figo Pagato mille milioni di euro Te hanno pagato 5 banane e una nocciolina Buone però le noccioline, grazie Questo è il tuo valore in campo Magari hai capito Mi avessi dato due barretti di cioccolato Sarei stata anche felice Comunque iniziamo Primo allenamento Te lo sistemo E preparati Saranno 5 sessioni di 5 cose diverse Super difficili E meglio le farai Allora Stef Più migliorerai Ho un'idea Sì Fammelo semplicissimo Così sembro super brava Va bene Ferre Però non diciamolo a loro Il tuo allenatore ti ha preparato tutto perfettamente Allora abbiamo allenamento sui passaggi Allenamento in difesa Allenamento sul dribbling Allenamento su tiri Allenamento su pallonetti Ovviamente più allenamenti da attaccante Piuttosto che da difensore Perché Ferre è un attaccante Per sfortuna della squadra Con il primo prego mia allieva Vada Le spiego immediatamente Ok Allora il primo allenamento È per fare i passaggi Ok Con il triangolo Tu fai degli assist Che sono dei passaggi filtranti Che paroloni Che mandano il giocatore Perfettamente in corsa Ad andare a concludere un'azione Quindi il tuo obiettivo Sarà fare un bel filtrante E dopodiché segnare Ok Vai Partiamo Quindi con triangolo Non lo devo fare Esattamente Mirri Triangolo E poi segni Dovrei potercela fare Ok Guarda Hai anche la direzione Dove devi farlo Vai Triangolo abbastanza potente Corri sulla porta E cerca di segnare Ok Vai più avanti Prima di tirare Con calma Tranquilla Va bene Triangolo un po' più forte Ok Ripassalo all'altro Ripassalo all'altro Vai 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 Tu Vai Dritto e tira Ok Ci metti una vita a tirare Così lento Perché è scarso Vai Triangolo Ok Ripassalo all'altro di nuovo No Tira Eri un po' troppo lenta Nel fare il passaggio E dopodiché La finalizzazione Ti spiego una cosa Io le tipo Cinque volte Anzi forse tre volte Che ho giocato a FIFA In tutta la mia vita Giocavo con giocatori Un po' più forti Tipo Messi Ronaldo Un po' più forti E giocatori di questo calibro Ok E invece usando Questo cosa Fede Queen Questo cosa Farei vedere Zoom sui baffetti In questo momento Ti prego Farò Lo farò Ti prego Dicevo Io mi vorrei dissociare Da lui Perché è davvero Difficile da gestire Cioè questo non me l'aspettavo Nel calcio Ti insegno anche un termine tecnico Si dice Un brocco Ok Un Brocco Insardo brombolo Mi piace di più Vai prossimo esercizio Forza Allora Adesso abbiamo La difesa La difesa semplice La cosa Guardare Sui baffetti Altro zoom La cosa più difficile Nella difesa È il tempismo Quindi Invece che correre dritta Velocissima Sull'attaccante Devi andare Calma Contenere E fare il tasto Al momento giusto Vai Partiamo La scivolata Quadrato Quadrato è meglio Con il quadrato Ok Allora vado Quindi con calma Capisci dove vuole andare E lì vai Dosto è quadrato Brava Numero uno andato Vai Il secondo Ok Vai Bravissima Concentrazione al massimo Vabbè È giusto Vai Ok Quando è andato di lato Non ho capito La sua direzione Ok Quando capisci la direzione Acceleri Ah ok Esatto Esatto Brava Questa è una fase difficile Ma è importante Perché il dribbling Nell'attaccante È molto importante Dovrai superare Birilli Paletti Giocatori immobili Di tutto e di più Ma ce la puoi fare Forza L'importante è bilanciare bene Quando corri veloce Quando vai lenta Tipo adesso Vai lenta E beh sì Devo fare tutto lo zago Tutto uno zigo zago Brava Così Cambi di direzione Più veloce possibili E fai meno strada possibile Bravissima Eh lui non scazzone Bravissima No no Stai andando bene Stai andando bene Adesso paletti Ok mamma mia Dai Fere Ma è troppo difficile Stai andando bene Stai andando bene Sembra uno di più percorsi Che fanno i concorsi Per i cani Ce l'hai presente Sì esatto Ma gli fanno fare i calciatori Le stesse cose Vai Puoi ancora farcela Il campione E diventere anche tu Brava Corri 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 Aiuto Perché c'erano un sacco di cose Continua Vabbè Ci sei quasi Ci sei quasi Secondo me non c'eri neanche per sbaglio Però il gioco vuole essere gentile con te E inizia la prima partita ufficiale per Steph e Ferinichi Allora sei gasata? Tantissimo Guarda ha intercettato già la palla Fra un po' ti faccio un passaggio Ok Passa Non la volevo adesso però Infatti avevo sbagliato Dovevo andare più Subito Subito Cioè mi stai rubando la scena? Mi stai rubando la scena? Ferre ma abbiamo segnato Ferre siamo una squadra Ti voglio uccidere Ti voglio uccidere Ferre esulta Sei brutto e fai schifo Ferre guarda che bell'azione Me l'hai passata Io l'ho passata all'altro tizio E abbiamo segnato T'ho tristissima Ma perché? Che mi dice la prima partita E l'ho super gasata Poi l'attaccante sono io Volevo sognare E mi hai rubato il gol Perché mi vuoi rubare la scena? Cioè sono io la regina qui Non tu Tu non sei una regina Non funziona così Il calcio Funziona Ma dimmi te Ma mi fai prendere No ma dimmi te Se ti devi lamentare Guarda Ho 6.5 per colpa tua Avrei potuto avere 8 Ma se parti da 5 È buonissimo Ah sto già andando bene Allora va bene Dai sei perfetto Perché fate un passaggio utile E l'ho apprezzato il gioco Allora io non ti sto seguendo Molto in difesa Come funziona? Ti devo seguire? Sei un attaccante Quindi non devi Mi faccio gli affari Esatto Ti li fai gli affari tuoi Vado un po' in giro A salutare la folla Se vuoi puoi anche chiacchierare con gli avversari Puoi fare un po' quello che vuoi Con quelli che guardano la partita L'importante è che ti riposi un po' E poi giochi qua Allora tienila perché non è compito il mio fare i passaggi Ma non è Non è proprio così Non è il tuo primo compito Adesso non è il mio compito Ok Magari dopo lo diventerà Tieni Fede Ok che ne ci faccio? Ok buono Aspetta aspetta arrivo Vai al centro Vai al centro Ci sono Aspetta Ci sono Sono pronta per un cross Aspetta aspetta Con calma Ho sbagliato un po' Tieni Fede Ma dai L'hanno bloccato Fede aspetta Scusami Era la mia polla Che tristezza Però Stefano ha sbagliato Mi sta già venendo il malumore Ma Fede abbiamo appena iniziato Però sono salita a 6.7 Com'è possibile? Buono buono Vai al centro Vai al centro Vado Vado Vai Fede Vai Tieni Fede Guarda tu Ok E dai E tira bene con quella testolina Accidenti a te Era il mio momento Anche lui mi sta rovinando Il mio momento di cuore Ancora Ancora Dai Ok ci sono Aio Non mi devi prendere in giro Si è caduto a pera Mi hanno spinto Ok Vedi dove c'è il cerchiettino giallo? Si lo so Ci devi essere tu Però è difficile Aspetta Mi stanno bloccando Togliti Ok vado Newcastle Vai Fede Quadrato 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 Ok Aspetta Te la ridò Ok segno io Ma dove sei Dentro Allora c'è stato un po' di caos Non posso capire tutte queste azioni così velocemente Va bene Stai pretendendo un po' troppo Ti devi abituare piano piano Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione E scatta 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 Tieni Fede Ma no Dai l'hai passata a te stesso Hai visto che si è messo in mezzo? Si è colpa sua È colpa sua Chiunque sia In panchina Lo mando in panchina Fede Tu sei l'allenatore Aspetta Chi era Fede Dimmi il nome Perché è una partita in modo un po' serio Così magari segno Un bel gol E i consolini saranno fieri di me Della Queen Sì Di Fede Queen Ok 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 Aspetta che cerco di recuperare Pallarivo Dammi un attimino Ma questi qua Stanno un po' rompendo le scatole Ogni occasione persa È un'occasione che non ci sarà mai più Ma cosa stai dicendo? Garra l'ho ripresa Fede Sei bravo? I proverbi sto facendo Ok allora Inizia ad avanzare Vai 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 Corri fuori Ma no Passa troppo presto Dai che mo c'è questo in mezzo Come faccio? Eh vedi perché ti stavo facendo allenare anche nei dribbling Eh lo so Però te l'ho passata Ok Aia aia Ma quello era fallo arbitro Finito il primo tempo Iniziamo il secondo tempo Ci hanno purtroppo fatto l'1-1 Per colpa mia Quindi Ferre non sta neanche andando male Ma Steph sì Perché non gioca a FIFA da un sacco di anni Allora concentrata E tu vuoi fare anche l'allenatore Puoi fare il gol della vittoria Ok Quindi è una cosa positiva Ci sono Allora Ma dai però Ok che sono scarso Ma sti giocatori Oh Non sono così scarsi nella vita reale I giocatori dei Cagliari Ecco FIFA sinceramente Ma che a me sembrano esageratamente scarsi C'è proprio Aia Oh wow wow Amico Giallo Arbitro Un espulso sì Ma se l'ha inventato Vabbè Non ce ne frega niente L'importante è che vengono espulsi gli altri Tutta la vita da giallo col fallo Tutta la vita da giallo Vabbè Grazie arbitro Così sono uno in meno E dobbiamo segnare per forza Esatto 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 Allora Non possiamo perdere con uno in meno Tieni Fere Mi vedi Sì Bravissimo Vai Ok Cerco di correre Tieni Fere Ma nooo Aspetta Calcio d'angolo Calcio d'angolo Ci sta Dovevi pensare solo a stoparla lì E poi tiravi Mi ha un po' messo ansia Ci sei al centro Ho sbagliato Adesso io la passo a un giocatore E la crosso immediatamente Quindi pronta con un colpo di testa formidabile Pronto vai Ok Ta Ta Vai Fere Ceri Ceri Dai che non ti deprimere Guarda il replay Guarda il replay Boom Cero Guarda lì vicino Bellissimo Guarda i baffetti The Queen Vai 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 Ti ho aumentato la valutazione 6.8 6.8 Buono buono Dai non è male È perché hai fatto comunque una bella occasione Per essere la prima partita non è male Esatto Ci sei? Pronta? Sì Faccio un altro cross Prima è andata bene Quindi può andare bene anche adesso Vai Allora vai Accentrati 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 Non voglio darla a te Ma mi hai dato un altro giocatore Per favore Vabbè lo do a questo Tieni amico Ok 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 Non so da dove passare Ok È tutto occupato Lo so Lo so Ok mi vedi? Tieni Passa Tiro Ma dai ma no Vabbè ci ho provato Dovevi passarla lì Ma tu di solito quando me la passi Io devo tirare Quindi faccio quello E ma ti voglio far fare qualcosa Ma l'hai visto che un giocatore del cagliere Mi ha buttato giù in terra Cioè vabbè Ma di nuovo? Sì C'è qualcuno che ce la commenta Sì esatto È geloso di miei baffi Assolutamente Quindi Aspetta che picchi un po' Che gli uomini crescono così belli Ma quando mai? 1-1 Ho concluso la prima partita Non male Non male Valutazione 7 Guarda Qua è tutto il recap 66% di tiri Hai fatto due tiri in porta E uno fuori 93 dei passaggi che hai fatto Sono stati giusti Che non è male per nulla Zero contrasti Possesso palla È nato abbastanza male Però non ho segnato Allora Da allenatore ti dico Secondo me La cosa che dove hai peccato di più È il possesso palla Ok? Quindi? Perché nel movimento Nei tiri e nei passaggi Non eri male Ok Però nel tenere tu proprio il pallone E correre col pallone Non ci sei ancora Colpa dei baffi che mi andavano negli occhi Mentre correvo Ah guarda qua c'è le aspettative dell'allenatore Allora adesso te le faccio vedere Un'email? Sì ti mando i messaggini l'allenatore Che penso che resti io Ma più o meno Allora Non mi stai mandando i messaggini Queste sono le aspettative Che l'allenatore ha per te In questa stagione Vabbè allora Una valutazione media minima di 6 E ho già preso 7 Esatto Un gol ancora mi manca Una percentuale di realizzazione Del 10% Vuol dire che se tu giochi 30 partite Devi fare almeno 3 gol Ok Ok E invece l'assist È il passaggio finale Prima di un gol Ma l'ho già fatto uno Di che cosa? Di assist Non so se te l'ha contatto assist Perché io l'ho passata E tu hai segnato Non lo so Forse sì Dovrei rivedere il replay Per garantirtelo Direi che ci possiamo fermare Se volete una serie In questo stile qua Nel prossimo episodio Faremo un allenamento Mirato soprattutto Al possesso palla E dopodiché Vedremo se nella seconda partita Riusciremo sia a segnare Sia a migliorare appunto Diciamo I movimenti Della nostra ferriti Voglio farlo diventare La regina del calcio Anche se è maschio Ma povero No no Lui sarà la regina del calcio Guarda Beh in effetti lo è già Perché è l'unico Che cerca di essere una regina Invece che un re Quindi ha già funzionato Comunque fateci sapere Con sondaggio Commenti, likes Se vi piace questa serie Se vi piace questa idea Se la volete vedere Portare avanti Spero di sì Spero che andate oltre Al gioco di calcio in sé Come fa Ferinichi Speriamo che sia semplicemente Come vuol dire Come fa Ferinichi Che anche a te Non fai impazzire il calcio Ma vai oltre Perché alla fine Ci si diverte A me i videogiochi Esatto Quindi speriamo Che anche i consolini Lo faranno E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi asciugge Se siete giocati Staciaci un like E questa è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi D'altre episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti.